Vincenzo Danna, da Ischia alle reti Mediaset, in tanti ti hanno visto in compagnia di un'icona della musica italiana e non solo come Massimo Ranieri. È stata una bellissima esperienza, è stato qualcosa di fantastico. Il mio obiettivo è quello di rappresentare l'isola di Ischia attraverso la musica e a quanto pare ci stiamo riuscendo. Volevo fare un ringraziamento al mio manager Carlo Giano che è tutto partito grazie a lui e alla mia famiglia che mi ha sempre supportato, a tutti gli imprenditori isolani in qualità di quando facevamo spesso, abbiamo fatto tre videoclip sull'isola di Ischia e quindi loro mi hanno dato una mano in qualità di sponsor dal più piccolo al più grande. Proprio grazie anche al mio autore Vincenzo Ippolito abbiamo fatto questo lavoro discografico e grazie a questo lavoro discografico sono stato individuato dalla Lucky Red e dal regista Eros Puglielli che è un grandissimo artista. E come appunto dicevo il mio obiettivo è rilanciare l'isola attraverso la musica. Che tipo hai Massimo Ranieri? Massimo Ranieri è una persona molto umida, una persona molto simpatica, il top del top degli artisti. Diciamo che io dentro al film, la fiction, la voce che è dentro ci sono presi sia i videoclip che le canzoni. A proposito di video, ti abbiamo visto anche sullo schermo, su Prime Video in una produzione davvero particolare. Sempre con Eros Puglielli e con Lucky Red ho fatto parte di un progetto molto bello come attore e cantante, comportami con te e con Io ti amo. Hai fatto, insomma hai sempre detto che Ischia è l'isola del tuo cuore, hai fatto una capatina ultimamente però anche dai cucini. A Capri, a Capri, a Capri. Il 13 agosto prima di partire cantevo solo il mio al Weber Ambassador e fu individuato da un ingegnere e disse guarda vince, io lo voglio pure salutare pubblicamente, zio Aldo, e mi disse guarda vince ti farò cantare All'Anima e Core da Gianluigi Limbo. Inizia a cantare con Reginella e successivamente dicevo tu bis, bis Vincenzo e feci un soldato innamorato. Pure da Paolino cantai, cantai Reginella e la dedicai a Paolino. Più bella Ischia e più bella Capri? Ischia e Capri sono meravigliose, come faccio a dire? Ischia sicuramente ha delle bellezze fuori dal normale, abbiamo parchi termali, colori, qualcosa di straordinario. Ogni isola ha il suo fascino. Capri è molto bella perché io ho detto una cosa, ho detto rimasto il cuore ad Ischia e l'anima sotto i faraglioni. Grazie.